E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi siamo su Assassin's Creed, primo video dell'anno. Sono passati 31 giorni dall'anno nuovo, quindi siamo il 31, ma ho delle novità speciali, tra cui ovviamente la data di rilascio del gioco, che vi dirò tra poco. Ma prima di tutto ragazzi vi voglio comunicare che quest'anno ci saranno delle diverse novità, ovvero siccome l'anno scorso purtroppo ho avuto a che fare poco con il canale, in quanto avevo tanto lavoro, in pratica la mia vita era diventata monotona, lavoro, casa, casa, lavoro, era difficile anche stare dietro al canale. Adesso cosa cambia? A partire dal 31 marzo io non lavorerò più e quindi tornerò a casa, resterò a casa e avrò tutto il tempo per poter dedicare interamente la mia passione e trasmetterla a voi su questo canale. Detto questo, la novità principale sarà il tour del mentore, ovvero io farò un tour dove andrò in queste diverse città. A marzo, giovedì 2 marzo a Vicenza, giovedì 9 marzo a Piacenza, il 15 e 16 aprile sarò a Pompiano a Brescia, dal 16 al 20 a Macerata, dal 20 al 23 a Roma, Pomezia, dal 23 al 27 a Cagliari e dal 27 al 29 a Verviers in Belgio. Dove verrò a trovarvi? Dove farò un video veramente speciale, unico, dove verrà pubblicato ovviamente alla fine del viaggio. Quindi sarà qualcosa di unico, nonché incredibile. E detto questo, passiamo alla data di rilascio del gioco. Ubisoft non ha ancora ufficialmente detto niente, infatti se adesso andiamo a controllare nei diversi store, nel Playstation Store, nell'Xbox Store, su Steam, su Epic Games, c'è scritto che la data di rilascio del gioco non è ancora stata decisa. E finora Ubisoft è stato in silenzio, ma c'è un noto sito, conosciuto per i preordini, dove finalmente ha rilasciato la data di rilascio del gioco, ovvero 30 giugno del 2023. Quindi a partire da oggi che sto registrando che è il 30, esattamente 4 mesi, il video uscirà domani, quindi il 31. Quindi esattamente 4 mesi e dovrebbe forse uscire il gioco. Ovviamente prendetela sempre con le pinze perché è un leak, non si sa ancora niente, ma io presumo che attorno verso, se dovesse uscire 30 giugno, attorno a fine febbraio, inizi di marzo, ci sarà il trailer del gameplay del gioco. Ragazzi vi terrò aggiornati su qualsiasi novità, se ci dovessero essere, riguardante Mirage. Riprenderò a registrare video del progetto che avevo tralasciato, ovvero l'Assassin's Creed letteratura. Farò anche un nuovo format, ovvero riassunti comici dei diversi videogiochi, tipo riassunto in 5 minuti l'Assassin's Creed 1, per farvi un esempio. In modo tale che così da rendere sketch divertenti per chi magari non si è mai interfacciato al videogioco, almeno c'ha un riassunto anche sotto livello comico, ecco. Quindi si vedrà di fare qualcosa del genere. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su un video che escono detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella! Ciao! Ciao!